E' un gruppo di ragazzi valido, importante, che possono dare soddisfazione a questa società. Le sensazioni sono ottime, però devo fare ancora il primo allenamento, quindi sarò più preciso nel proseguo della settimana. Lei è a Pisano, quindi di Ponzacco per la precisione, quindi è uno stimolo doppio a far bene. Sì, ma questo è importante, ma è meno importante di quello che può essere il discorso di squadra di questa società. Io sono venuto, sono un professionista che fa il suo lavoro con il massimo entusiasmo, con la massima applicazione e attenzione, quindi sono venuto qui per cercare di risollevare questa squadra che, secondo me, ha dei valori importanti, che però ultimamente, per vari motivi, anche un pizzico di sfortuna, non è riuscita a concretizzare i risultati. Speriamo di invertire la tendenza già da domenica con il Prato. Benvenuti in bocca al lupo. Grazie, crepi.